Estra con altre 26 aziende di servizi pubblici sottoscrive il patto Utilitalia, la diversità fa la differenza per favorire l'inclusione e valorizzare nelle aziende le diversità di genere, età, cultura e abilità. Estra promuove la Smart City, la città intelligente e digitale a servizio di cittadini e imprese. La presentazione alla recente Assemblea Nazionale Annuale del Lanci, l'Associazione dei Comuni Italiani. Siena si accende con il contributo di Estra di luci, di eventi e iniziative per Natale. Un ricco cartellone fatto di concerti, mercatini e avvenimenti per i più piccoli che accompagnerà le festività fino all'Epifania. Il Cral di Estra e Vivenda, la società che gestisce la mensa della sede di Prato, in prima fila per la sana alimentazione dei propri dipendenti, con la promozione di un apposito corso di cucina. Grazie a tutti! Grazie a tutti!